Galeotto fu uno spinello per un 38enne belpassese che molto incautamente fumava mentre era alla guida di un'auto, lasciando dietro di sé una scia dall'aroma inconfondibile che non è affatto sfuggito una pattuglia di carabinieri. E così subito fermato e sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di 8 chili di marijuana contenuti in 14 buste termosaldate riposte in un borsone nero adagiato nel bagagliaio della panda grigia su cui procedeva. L'uomo pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Catania Piazza Dante in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo avvenuto in via Don Minzoni nel quartiere di San Giovanni Galermo si è poi spostato nell'abitazione del 38enne in centro a Belpasso dove nel comodino della camera da letto i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato originariamente posto agli arresti domiciliari e attesa la convalida dell'arresto disposta dal giudice rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.